Questa vostra mente, cerchio Ifior attraverso Tullia Ijan Ananda. Om Tatsat Nota Hari Om Tatsat è un mantra tratto dai Veda che significa La realtà manifesta e non manifesta sono l'infinita vita che non ha mai fine. Pace a voi figli e fratelli che questa sera siete qui riuniti spinti da motivazioni diverse, spinti come sempre quindi dagli impulsi della vostra mente. Osservatela questa vostra mente come spesso reagisce in modo illogico anche ai più piccoli stimoli. Basta ad esempio sentire a volte da parte vostra parlare di religione o di religiosità per ottenere una chiusura nei vostri pensieri, per ottenere già una reazione di allontanamento e di disinteresse. Eppure figli e fratelli questo accade più che altro perché la vostra mente si ferma soltanto ai concetti e alle parole. Religione e religiosità non sono la stessa identica cosa, ma sono anzi due cose molto, ma molto diverse. Religione ad esempio è quella che può essere considerata creata dall'uomo in una corporazione, al fine di portare avanti degli interessi il più delle volte egoistici, un insegnamento che viene messo come scudo per parare qualche cosa di corporativo. Religiosità invece è sempre qualche cosa che riguarda l'individuo, che non può essere etichettata con un termine ben preciso, ma è qualche cosa che nasce dall'individuo stesso, non appigliandosi a qualche dottrina particolare, ma sentendo il senso della vita, percependo che tutto non è stato creato a caso, sentendosi unito alle altre persone, ascoltando il canto che sorge dal proprio interno e che si fonde col canto di tutti i suoi simili. La vostra mente, figli e fratelli, come è stato detto, può creare delle grandi barriere. Sempre restando in campo di religiosità, la vostra mente può reagire in modo diverso a seconda che una persona dichiare ad esempio di essere ateo e di non credere in un Dio, qualsiasi nome ad esso possa venire dato. Eppure, figli e fratelli, noi vi diciamo rispettate l'opinione di qualunque persona e ricordate che è molto meglio un ateo che vive la sua vita in modo giusto, in modo equilibrato, cercando di fare il possibile per un domani migliore e per la società, che invece la persona religiosa è a volte sconfinante nel bigottismo, che in nome di quella religione calpesta magari i diritti altrui, si erge a giudice dei peccati altrui e non osserva ciò che essa stessa sta facendo tutti i giorni in continuazione. Osservate, quindi, figli e fratelli, la vostra mente. Se voi soltanto per un attimo riusciste a farla tacere, non potreste più avere alcun dubbio sull'esistenza di un qualche cosa che permetta tutto ciò che è creato. Che questo qualche cosa poi possa avere un nome attribuito da una corporazione o un nome attribuito individualmente da ognuno di voi è sempre diverso, questo non ha importanza. Giunge sempre, figli e fratelli, il momento in cui viene percepita la presenza del tutto, dell'assoluto, che viene percepita la fratellanza universale, la necessità di stringere la mano di un fratello di esistenza. È soltanto questa stretta, basta soltanto questa stretta per indicare l'uomo religioso senza che quest'uomo pensi o creda o dichiari di credere in un Dio o in una religione. Figli e fratelli, la religiosità non è la religione ma è una condizione interiore di comprensione della realtà e di fusione col proprio intimo e con la propria coscienza. Om Tat Sat Om Tat Sat Om Tat Sat Om Tat Sat Om Tat Sat